Buongiorno a Massimo Guerrieri che è responsabile di Q Consulenze Finanziarie. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti. E buongiorno a D'Antonello Cattani, responsabile della formazione di Q Consulenze Finanziarie. Buongiorno. Allora Guerrieri, siamo con voi a questa ultima puntata del 2022 di questa rubrica e quindi possiamo fare qualche bilancio? Beh, diciamo che a fine anno normalmente si fanno bilanci e quindi è giusto farlo. Partiamo un po' da quello che ci eravamo detti a fine dell'anno scorso, anzi a inizio appunto di questo 2022. Quindi ripercorriamo velocemente un po' le diapositive che avevamo proiettato un anno fa proprio per fare il punto della situazione. Vediamo come appunto l'anno scorso, a inizio anno, mettavamo in guardia come lo sciocchio di inflazione metteva a rischio il risparmio degli italiani. Ricordiamo che sui conti correnti ci sono 1800 miliardi, quindi sono tanti tanti soldi e che poi l'inflazione può erodere come potere d'acquisto. Vediamo che già noi l'anno scorso lo dicevamo perché l'inflazione diciamo che si è iniziata a parlare a settembre dell'anno scorso. Quindi chi non ha seguito i nostri consigli, quindi ha lasciato i soldi sul conto e non ha iniziato a programmare gli investimenti, ovviamente si è ritrovato poi a oggi con un'inflazione del 10%. Un'altra cosa che mettavamo in guardia era l'incertezza relativa al 2022, quindi la guerra ancora non c'era, siamo sempre a gennaio, ma proprio perché vedevamo come a fine dell'anno scorso c'erano le borse ai massimi, questa bolla enorme, le banche centrali che iniziavano a parlare di aumento dei tassi e di conseguenza mettavamo in guardia chi ci ascoltava dall'anno 2022, e la guerra ancora non era in corso, ma proprio perché vedevamo queste nubi e invitavamo chi ci ascoltava a analizzare i rischi dei propri portafogli proprio per evitare le perdite. Un'altra cosa su cui mettavamo in guardia, iniziano sempre dell'anno scorso, era il rischio legato alle obbligazioni. Il BTP si apre un anno di incertezza, dice questo articolo proprio di gennaio del 2022, perché se le banche centrali iniziano ad aumentare i tassi causa inflazione, questo vuol dire che i prezzi crolleranno, perché se i tassi aumentano i prezzi calano, come poi puntualmente si è verificato e vediamo che oggi la preoccupazione maggiore di chi ci ascolta è proprio legata alle perdite sull'obbligazionario. Ricordiamo che le obbligazioni a oggi stanno perdendo da un meno 10 o meno 30% ed è la fetta più grande normalmente dei patrimoni. Un'altra cosa che poi è emersa con la guerra, qua siamo a marzo, era proprio il rischio di recessione. Anche qui oggi tutti i giornali parlano di recessione, stagfrazione, ecco noi ne parlavamo su questi schermi, proprio qua siamo a marzo, perché oltre alle cose già viste che ne abbiamo parlato a gennaio, poi a marzo con lo scoppio della guerra era sempre più evidente che anche le economie sarebbero andate in difficoltà. Ecco, questo è un pochino quello che ci siamo detti l'anno scorso, che poi è accaduto, nell'ottica che è sempre meglio prevenire che curare, a oggi diciamo che siamo qui per gestire delle situazioni e per aiutare chi ci ascolta a fondamentalmente non solo recuperare delle perdite ma vivere in maniera più serena, visto che anche il 2023 sarà un anno molto volatile, così ci dicono gli esperti, e di conseguenza proprio cercare, siamo anche a Natale, di vivere in maniera responsabile e serena il futuro senza farsi apprendere da paura, panico, che sappiamo che poi portano ad errori. Ecco, quindi visto che è possibile fare delle previsioni, Cattani le chiedo intanto, lo scorso anno, o meglio, ormai è finito, quindi per me è già passato, ma insomma all'inizio del 2022 qualche investitore ha sottovalutato i rischi, perché? Sì, certo, infatti come vediamo magari in quest'altra diapositiva, già a fine gennaio si vedeva come la raccolta del risparmio, che principalmente viene dirottata nei fondi comuni di investimento, vediamo a gennaio di quest'anno, vola la raccolta, cioè praticamente nell'anno 2021, quindi che è stato un anno positivo, perché sostenuti dalla liquidità della BCE e delle banche centrali, i mercati sono saliti sia azionari che obbligazionari, ma si vedevano, come abbiamo detto prima, i rischi, nonostante questo diciamo che i risparmiatori, indotti un po' anche dal sistema finanziario, hanno continuato a mettere soldi in questi strumenti che acquistavano azioni ai massimi e obbligazioni che matematicamente abbiamo visto davano, avrebbero dato rendimenti molto bassi, con concreti rischi invece di perdere valore a fronte di un aumento dei tassi. E qua entra in ballo un po' quella che noi chiamiamo la finanza comportamentale, questo l'abbiamo visto anche già altre volte, questo grafico che è un po' il ciclo delle emozioni, perché non dimentichiamoci che il risparmiatore è una persona umana e che quindi è in balia delle emozioni, solo che talvolta queste emozioni possono, tra virgolette, fregare, cioè quella che noi chiamiamo la pancia. Quindi farsi prendere dall'euforia, quindi non guardare magari ai rischi e quando tutto va bene pensare che questo continuerà all'infinito e viceversa battersi quando invece i momenti sono come questo di difficoltà fa parte un po' dell'emotività. E questi però sono degli errori che noi cerchiamo anche con i nostri clienti di correggere, proprio perché bisogna fare un po' il contrario, come dice, se guardiamo anche la depositiva di Warren Buffett che abbiamo già, citiamo ogni tanto, Warren Buffett è uno dei più grandi investitori al mondo, che è famoso un po' per i suoi aforismi, quindi qua dice si avido quando gli altri sono spaventati, spaventato quando gli altri sono avidi, quindi avidi in senso buono, nel senso di approfittare, cogliere le opportunità quando il mercato le dà, come adesso in questo momento ne vediamo, invece quando tutto va bene magari essere un pochino più prudente. Con questo invece normalmente il risparmiatore tende a fare il contrario, cioè si lascia trascinare dall'euforia, quindi continua a investire sui massimi e quando i mercati scendono o vende in perdita, quindi magari commettendo un altro errore, oppure non approfitta di queste opportunità perché è spaventato. Quindi bisognerebbe poi un po' più invertire questa tendenza. Ecco, ma Guerrieri, ci sono stati degli investimenti che sono andati meglio di altri e soprattutto le previsioni che potete fare per il 2023 quali sono? Sì, grazie per la domanda Susanna. Diciamo che se guardiamo questa diapositiva, nel 2022 vediamo tutti dei segni meno. L'unico, tra virgolette, asset che ha performato positivamente è stato il dollaro che però è una valuta e non è un investimento. Detto questo, se vediamo invece un orizzonte temporale più lungo, quindi prendiamo gli ultimi 20 anni e lo vediamo nella seconda diapositiva, gli asset che hanno tenuto passo con l'inflazione sono stati fondamentalmente tra l'azionario, il real estate che è la colonina rossa, cioè l'immobiliare e l'oro che è la colonina color oro. Quindi l'azionario negli ultimi 20 anni ha reso mediamente all'anno un 15% e l'oro ha reso mediamente all'anno un 12%. Questo perché mi riaggancia a quello che diceva Catani, ovvero se io pianifico in maniera corretta, quindi qua già denunciavamo come normalmente gli investitori non hanno un piano finanziario, io pianifico i miei investimenti guardando degli obiettivi e quindi dando un tempo ad ogni obiettivo riesco ad avere dei rendimenti importanti, scegli degli strumenti e compensare l'inflazione. Se mi punto nel breve, abbiamo visto come nel 2022 con un'inflazione a 10% tutti gli asset hanno segno negativo, cosa vuol dire? Che l'investitore non solo ha perso il 10% di inflazione, ma anche ha perso in conto capitale, cioè se aveva 100% oggi semmai a 98%. Quindi è importante, non mi stoncherò mai di dirlo, che l'investitore fa da affare un piano finanziario, lo dico perché non lo fa quasi nessuno. Signori, se non ci mettiamo a fare le cose bene, poi non si può pretendere di avere risultati. Vedo questa diapositiva sull'immobiliare, l'immobiliare oggi sappiamo che ormai non è più un bene rifugio per diversi e svariati motivi, al di là che in questi anni è cresciuto molto. Andando anche in conto tra l'altro a una crisi, io vedo molte persone che fanno fatica proprio non solo a gestire le manutenzioni per i costi elevati delle materie prime, ma proprio anche a incassare gli affitti. Quindi sull'investimento immobiliare ovviamente bisogna fare molta attenzione. Mentre se andiamo alla diapositiva successiva, vediamo come Rubini, che è uno dei più grossi economisti a livello mondiale, ci mette in guardia su una nuova minaccia mondiale legata appunto alla stack frazione, cioè nel breve un po' tutti gli economisti prevedono una recensione, ma quello che lui ci mette in guardia è la stack frazione, cioè un periodo lungo di stagnazione con inflazione, perché questo ovviamente avrebbe degli effetti dirompenti proprio sull'economia reale e anche poi sulla tenuta dei posti di lavoro. Quindi le previsioni, quali possono essere? Sì, c'era un'altra diapositiva, eccola qua, così arriviamo alle previsioni. La Lagarde, che è la presidente della BCE, dice che da marzo, quindi le banche centrali stanno alzando i tassi per combattere l'inflazione, questo ovviamente porta al denaro più caro e quindi si parla di rischio di recessione proprio per questo motivo, ma pochi giorni fa ha detto appunto che da marzo inizierà a comprare meno titoli di Stato, cioè finanzierà meno gli Stati. Quindi uno Stato come il nostro, ad esempio, che ha il terzo debito al mondo più alto, più o meno sui 2.500 miliardi, se si trova non solo a dover pagare più interessi, perché alzare i tassi vuol dire che il mio debito lo debbo remunerare in maniera più cara. Detto in parole povere, le tasse che noi paghiamo, più i tassi aumentano e più io buona parte di queste tasse le dovrò usare per pagare interessi, quindi ne avrò meno per finanziare scuole, ospedali e quant'altro. Ma se poi la BCE mi dice che non mi comprerà più i miei titoli di Stato, io avrò altre due cose da acquistare attento. La prima ovviamente è che avrò meno disponibilità. La seconda, se avrò avere più disponibilità, cioè aumentare ulteriormente il mio debito, sarò in mano ai mercati, cioè alla speculazione. E quindi con un aumento importante dello spread, cosa che sta già avvenendo. Ecco, questo per dirvi, mi chiedevi delle previsioni, diciamo che noi vediamo un 2023 volatile con tante opportunità, però ci sono anche tanti rischi. Io ne ho solo citati alcuni. E quindi penso che oggi, a maggior ragione, se lo dicevamo l'anno scorso, a oggi chi vuole invertire una tendenza, cioè metterci seriamente a smettere di perdere soldi, a invertire una tendenza, cioè iniziare a guadagnare per appunto compensare l'inflazione, oltre che recuperare le minus pregresse, è necessario che analizzi il proprio portafoglio e faccio un piano finanziario. Quindi bisogna, insomma, un po' studiare, Cattani, un po' continuare con l'educazione, l'educazione finanziaria. A voi da molto tempo, insomma, siete impegnati su questo. Ci sono già degli incontri in programma per l'inizio del 2023? Sì, diciamo che l'educazione finanziaria, come vediamo in queste diapositive, è un po' l'unico antidoto per difendersi da queste trappole, dei mercati, di tutto quello che abbiamo detto, quindi capirne di più, saperne di più, vediamo che evita tanti problemi, perché l'esparmiatore informato, ovviamente, più informazioni ha, più si difende dal sistema che, come vediamo, in un modo o nell'altro, c'è un po' di prenderci soldi. E quindi questo è un'arma che vediamo che funziona. Quindi noi quest'anno abbiamo ripreso, anche con l'autunno, quest'anno, visto che sono alla fine anche della pandemia, quindi incontro in presenza che prima, per un paio d'anni, purtroppo abbiamo avuto qualche difficoltà nel farli, quest'anno abbiamo dato molto spazio, quindi abbiamo iniziato già con l'autunno, adesso c'è un po' una pausa dicembre-natalizia, poi a gennaio riprenderemo con uno dei corsi più storici, diciamo, che è quello con Lute di Modena, che è una realtà consolidata da tempo, quindi una vera e propria università, quindi molto strutturata, con corsi quindi molto articolati, molto approfonditi, quindi inizieremo giovedì 12 gennaio, un corso di otto lezioni, quindi a iscrizione con un piccolo contributo, viene anche molta gente da Reggio, perché è proprio una realtà molto ben impostata, e quindi qua faremo un corso molto approfondito, proprio di educazione finanziaria, dove andremo a toccare i principali argomenti, e quindi per otto giovedì, quindi da giovedì 12 dicembre, dalle 16 alle 18, gennaio, gennaio, scusate, scusate, grazie, 12 gennaio, riprenderemo quindi con questo corso, che è uno dei più approfonditi e strutturati, che ci sono proprio in primavera, però ovviamente strutturato, approfondito, ma poi comprensibile per tutti naturalmente, sì, assolutamente comprensibile a tutti, infatti è sempre molto frequentato, e proprio per questa, anche questa indipendenza delle informazioni, quindi che è un valore aggiunto da non dimenticare. Allora Guerieni, le voglio appunto poi chiedere qualche consiglio, anche augurio, anche per i nostri telespettatori, prima però le leggo un messaggio, di una persona che scrive, vorrei un consiglio, investendo su un terreno, può essere un buon investimento? Torniamo un po' a quello che accennava anche prima. Il discorso è sempre del piano finanziario, cioè io penso che all'interno della propria situazione familiare, ognuno di noi debba valutare, è di avere un giusto equilibrio tra quanto investiti in immobili, quanto in terreni, per chi ha questa vocazione, sicuramente il terreno è limitato, quindi se uno, se una persona pensa di avere del terreno, perché no? L'importante è avere un piano finanziario, cioè avere un equilibrio, perché altrimenti, cosa ci troviamo? Ci troviamo che, fino a ieri avevamo tutti degli immobili, oggi io ho clienti che hanno tantissimi appartamenti sfitti, che sono un costo, e con anche problemi tra l'altro, appunto con gli affittuari, se potessero vorrebbero vendere tutti, quindi fino a ieri solo immobili, oggi non vorrebbero più avere immobili, voi capite bene, che dobbiamo ritrovare un equilibrio, un senso, tra l'altro, Voi potete dare anche consigli da questo punto di vista, è per tutto un investimento quello che dice la signora, su un terreno? No, quello che è appunto la risposta che voglio dare alla signora, ma anche a chiunque ci ascolta, che nel momento in cui io vado a vedere sulla carta una situazione, e il mio obiettivo è migliorarla, poi vado a vedere in base al momento dove sono, se privilegiare l'immobile, il terreno, gli investimenti azionari, piuttosto che in oro, piuttosto che obbligazionari, l'azienda la devo tenere o è meglio di smetterla, e questo, prima lo faccio meglio, è, dicevamo che chi è venuto da noi l'anno scorso, sicuramente si è evitato tutte queste perdite, perché, come già lo dicevamo, non è che noi siamo i più belli, i più bravi, è che vedo che questa pianificazione finanziaria, purtroppo non la fa nessuno, né chi la dovrebbe fare, né tanto meno i clienti, e quindi è necessario adeguarsi alla consulenza stile americano, anglosassone, Fionni si chiama, che è una consulenza importante, che oggi è accessibile a tutti, quindi il mio invito è di avere l'umiltà di farsi aiutare, perché i tempi ormai lo richiedono. Sì, perché diciamo, in sé un investimento può essere adatto o non adatto, ma dipende poi dalla situazione generale, della famiglia, del patrimonio, degli obiettivi anche. Bravissima Susanna. Il punto fondamentale è questo, poi quello che diceva Antonello è che vediamo appunto che c'è molta lentezza nell'adeguarsi a un mondo che cambia velocemente, quindi quello che diceva Antonello è di dire, guardate, noi facciamo i corsi, abbiamo scritto tre libri, anzi, che sono molto utili, anche se scritti ormai uno 2013, uno 2015, uno 2017, ma sono molto attuali, l'ultimo capitale garantito, per dire giusto che il titolo dice già tutto, quindi chi ha dei dubbi su quello che ha firmato con la banca ci può telefonare, insomma, io penso che se vogliamo tutelare la nostra ricchezza e ancora viviamo in una zona ricca, io penso che bisogna un attimo cambiare passo. Siete sempre attivi, a parte i giorni di Natale di Santo Stefano, rispondete, messaggi, telefonate, ci posso fare gli appuntamenti, come vi siete organizzati per questi ultimi giorni dell'anno? Ma noi siamo da sempre, sempre aperti, quindi fatto salvo le feste comandate, ma per un semplice motivo, perché i mercati sono sempre aperti e se il nostro cliente ci dà il mandato di tutelare i propri risparmi, dobbiamo avere un ufficio che non solo sia presente, ma che veramente controlli la bontà. Quindi ci siete sempre, perché naturalmente appunto i mercati si muovono sempre. I soldi non dormono mai, dice un vetto, e poi chi dorme non piglia pesci, quindi dobbiamo stare svegli. Valgono sempre queste idee. Allora intanto grazie, grazie per i vostri consigli, buon Natale, buon anno e naturalmente ci vediamo all'inizio poi dell'anno per fare nuovamente le previsioni su quello che capiterà. Sì, il prossimo appuntamento direi che sarà il mercoledì dopo l'Epifanina. Esatto, quindi prendete nota e ci ritroviamo qui con i telespettatori appunto per seguire le notizie economiche e quindi capire cosa dobbiamo fare poi con i nostri soldini. Grazie per essere stati con noi e buon Natale e buon anno. Grazie Susanna, buon Natale a tutti. Adesso ci sono le pillole di botanica. Grazie a tutti.